Mi riallaccio all'incontro precedente per concludere qualche nota sulla unzione, sul sacramento della unzione degli infermi. Avevamo detto che gli effetti occasionali del sacramento dell'unzione sono la remissione dei peccati, qualora il malato non avesse potuto ottenerla col sacramento della penitenza e la guarigione fisica se questa risulta utile per la salvezza eterna del malato. E' il caso di aggiungere qualche altra considerazione per definire in modo completo il sacramento dell'unzione degli infermi. Possiamo chiederci se l'unzione degli infermi è il sacramento della santificazione della malattia. Certamente è così. Infatti l'unzione degli infermi unisce a Gesù sofferente che espia i peccati del mondo. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 1521, dice tra l'altro che il malato viene in certo qual modo consacrato, tra virgolette, è chiaro, per portare frutto mediante la configurazione alla passione redentrice del Salvatore. La sofferenza, che è conseguenza del peccato originale, riceve così un nuovo senso, diviene partecipazione all'opera salvifica di Gesù. Infine ci chiediamo quali sono le condizioni per ricevere il sacramento dell'unzione degli infermi. è necessario che chi lo riceve sia, o comunque comincia ad essere, in una vera situazione di pericolo dovuta alla malattia o magari anche alla vecchiaia. Inoltre bisogna dire che esso va ricevuto da chi è in grazia di Dio, infatti è un sacramento dei vivi. È sommamente raccomandabile, infine, che esso sia ricevuto da chi si trova ancora in stato di piena coscienza, affinché egli possa ricevere tutti i benefici del sacramento. Continuiamo questa analisi dei sacramenti, dico sempre, tra ben entesi, brevemente, che stiamo considerando la volontà significata di Dio, cioè ciò che Dio manifesta essere sua intenzione. Allora, nelle intenzioni della volontà divina ci sono i sacramenti e noi li stiamo appunto considerando. Sacramento dell'ordine Il sacramento dell'ordine è il sacramento grazie al quale la missione affidata da Cristo e i suoi apostoli continua ad essere esercitata nella Chiesa fino alla fine dei tempi. Il sacramento dell'ordine si compone di tre gradi, che sono insostituibili per la struttura organica della Chiesa. Il diaconato è il primo grado, poi il presbiterato, secondo grado, ed infine il terzo grado che è l'episcopato. L'ordinazione episcopale conferisce la pienezza del sacramento dell'ordine e fa del vescovo il legittimo successore degli apostoli, lo inserisce nel collegio episcopale, condividendo con il Papa e gli altri vescovi la sollecitudine di tutte le Chiese e gli consegna agli uffici di insegnare, santificare e governare. Invece, l'unzione dello Spirito segna il presbitero con un carattere spirituale indelebile. Lo configura Cristo sacerdote e lo rende capace di agire nel nome di Cristo capo. Essendo cooperatore dell'ordine episcopale, il presbitero è consacrato per predicare il Evangelo, per celebrare il culto divino, soprattutto l'ecarestia, da cui trae forze il suo ministero e infine per essere il pastore dei fedeli. Pur essendo ordinato per una missione universale, il presbitero la esercita in una chiesa particolare, in fraternità sacramentale con gli altri presbiteri, che formano il cosiddetto presbiterio, il quale, in comunione con il vescovo e in dipendenza da lui, portano la responsabilità della chiesa particolare. Quali sono gli effetti del sacramento dell'ordine? Questo sacramento dona una speciale effusione dello Spirito Santo che configura colui che viene ordinato alla persona del Cristo. Nella sua triplice funzione di sacerdote, profeta e re, secondo i rispettivi gradi del sacramento, l'ordinazione quindi conferisce un carattere spirituale indelebile, perciò non può essere ripetuta né conferita per un tempo limitato. Passiamo a considerare adesso il sacramento del matrimonio. Nel considerarlo ci dobbiamo chiedere qual è il disegno di Dio sull'uomo e sulla donna. Allora noi sappiamo che Dio, in quanto amore, ha creato l'uomo per amore, l'ha chiamato ad amare. Creando l'uomo e la donna, li ha chiamati nel matrimonio ad un'intima comunione di vita e di amore fra loro. Cosicché, scritto in Matteo al capitolo 19, versetto 6, non sono più due, ma una carne sola. Dio, benedicendoli, disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi. L'unione matrimoniale dell'uomo e della donna, fondata e strutturata con leggi proprie dal creatore, per sua natura è ordinata alla comunione e al bene dei coniugi e anche alla generazione e alla educazione dei figli. L'unione matrimoniale, secondo l'originario disegno divino, è indissolubile, come afferma Gesù Cristo. Quello che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi. Questo lo leggiamo in Marco, al capitolo 10, versetto 9. Il sacramento del matrimonio genera tra i coniugi un vincolo perpetuo ed esclusivo. Dio stesso suggella il consenso degli sposi. Pertanto il matrimonio concluso e consumato tra battezzati non può essere mai sciolto, appunto si dice che è indissolubile. Inoltre questo sacramento conferisce agli sposi la grazia necessaria per raggiungere la santità nella vita coniugale e per l'accoglienza responsabile dei figli e, insomma, anche della loro educazione. Ci sono peccati gravemente contrari al sacramento del matrimonio. Essi sono l'adulterio, la poligamia in quanto contraddice la pari dignità tra l'uomo e la donna, contraddice l'unicità e l'esclusività dell'amore coniugale. Altro peccato grave è il rifiuto della fecondità, che priva la vita coniugale del dono dei figli. Infine, altro peccato grave è il divorzio, che contravviene alla indissolubilità. La Chiesa, in alcuni casi, ammette la separazione fisica degli sposi quando la loro coabitazione, per motivi molto gravi, è divenuta praticamente impossibile, anche se la Chiesa si auspica sempre una loro riconciliazione. Ma essi, finché vive il coniuge, non sono liberi di contrarre una nuova unione, a meno che il loro matrimonio non venga dichiarato nulla, e questa dichiarazione di nullità deve avvenire da parte dell'autorità ecclesiastica. Fedele al Signore, la Chiesa non può riconoscere come matrimonio l'unione dei divorziati risposati civilmente. Chi ripuglia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei. E se la donna ripuglia il marito e ne sposa un'altra, un altro commette adulterio. Questo lo leggiamo nel Vangelo di Marco, al capitolo 10, versetto 11-12. Verso di loro la Chiesa attua una attenta sollecitudine, invitandoli ad una vita di fede, alla preghiera, alle opere di carità e all'educazione cristiana dei figli. Ma essi non possono ricevere l'assoluzione sacramentale, né accedere alla comunione eucaristica, né esercitare certe responsabilità ecclesiali, finché perdura tale situazione che oggettivamente contrasta con la legge divina. E con il sacramento del matrimonio si conclude l'analisi dei sacramenti, che, ripeto, sono sempre volontà di Dio manifestata. E con il sacramento del matrimonio si conclude l'assoluzione sacramentale di Dio manifestata. Grazie a tutti. Passiamo ora all'analisi delle tre virtù teologali. Anche queste parte della volontà manifestata o significata di Dio. Le virtù teologali sono virtù che esercitate mettono l'anima in diretto contatto con la persona divina di Dio. Esaminando le tre virtù teologali, cioè fede, speranza e carità, partiamo appunto dalla prima, la fede. La fede è una virtù che mette, come dicevo qualche momento fa, l'uomo in contatto con Dio. Dio ci rivela la sua vita intima e i grandi misteri della grazia e della gloria e ci fa vedere le cose, per così dire, dal suo punto di vista divino, così come egli le vede. L'uomo è chiamato a rispondere a questa manifestazione di Dio, aprendo la sua mente e il suo cuore. La fede, quindi, è in qualche modo sottomissione della nostra mente ad una verità che la supera. È necessario, perciò, che nella creatura ci sia umiltà, cioè bisogna che noi siamo consapevoli dei nostri limiti e dei nostri bisogni. Dio si è fatto conoscere dall'uomo attraverso la rivelazione naturale che ci guida a contemplare la bellezza delle cose create. Ma Dio ha fatto di più. Si è rivelato anche nella storia della salvezza. Prima attraverso la testimonianza dei profeti, poi con il Messia, che ha assunto il volto di un uomo in Gesù Cristo. La fede cristiana è fede nella persona di Gesù Cristo, figlio di Dio, salvatore e redentore del genere umano. Senza Gesù, Dio rischia di restare un'entità astratta e soggetta a interpretazioni e fantasie di ogni tipo, come purtroppo è dato di vedere in certi settori del popolo cristiano. La certezza della fede è nello stesso tempo un dono di grazia ed è anche uno sforzo del cuore. Una situazione tipica di fede morta è quella dei battezzati, di alcuni battezzati che dicono di essere credenti ma non praticanti. Quali sono i peccati contro la fede? Ce ne parla Sant'Omaso, il quale dice che i peccati che si oppongono alla fede sono, in primo luogo, l'infedeltà, detto pure paganesimo. Infedeltà che, quando è volontaria, costituisce il maggiore dei peccati dopo l'odio verso Dio. Poi Sant'Omaso parla dell'eresia, dice che l'eresia nega qualche dogma rivelato o dubita volontariamente di esso. Ancora Sant'Omaso cita come peccato contro la fede l'apostesia, che è l'abbandono totale della fede cristiana che noi abbiamo ricevuta nel battesimo. Un altro peccato contro la fede è la bestemmia, soprattutto quella contro lo Spirito Santo. Infine c'è l'accecamento del cuore, che potremmo anche definire l'abbrutimento dei sensi, che si oppongono al dono dell'intelletto e sono conseguenza soprattutto dei peccati della carne. Dovremmo dire molto di più sulla virtù teologale della fede, per esempio dovremmo dire che chi ha fede, cioè il credente che ha riconosciuto in sé la luce divina, dovrebbe abituarsi a giudicare tutte le cose in conformità con gli insegnamenti della fede, non secondo gli insegnamenti del mondo. E allora, per dirla brevemente, il credente dovrebbe convincersi che in ordine alla vita eterna è preferibile, come spiega la rivelazione divina, in tutta la Sacra Scrittura e specificamente nel Vangelo, è preferibile, dicevo, la povertà alla ricchezza, la mansuetudine all'ira, sono preferibili le lacrime del pentimento ai piaceri del mondo, la pace è preferibile alle risse. In uno spirito di fede bisognerebbe essere capaci di vedere nel dolore anche un'autentica benedizione di Dio, benché il mondo, ma anche per noi, riesca difficilissimo comprendere questo. Passiamo all'analisi della virtù teologale della speranza. La speranza è quella virtù teologale grazie alla quale desideriamo Dio e in base alla quale consideriamo o confidiamo con certezza di ottenere la beatitudine eterna e naturalmente noi sappiamo di attendere con altrettanta certezza gli aiuti necessari per giungervi, per giungere cioè a questo incontro e al possesso con Dio. La virtù della speranza sul piano terreno e sul piano umano è la capacità dell'uomo di guardare al futuro con ottimismo. Tuttavia, i progetti dell'uomo per quanto importanti sono in qualche modo fondati sulla sabbia degli eventi umani, delle cose umane e queste spesso vengono cancellate senza lasciare alcuna traccia di sé. La virtù della speranza invece sul piano soprannaturale è molto di più. Essa guarda con fiducia al futuro nella certezza che i suoi desideri di beatitudine eterna saranno soddisfatti perché si basano sulla potenza e sulla bontà divine oltre che sulla misericordia e sui meriti di nostro Signore Gesù Cristo. Alla virtù teologale della speranza si oppongono due vizi. Uno per difetto è la disperazione che considera impossibile la salvezza eterna. Questo vizio della disperazione è causato dal vizio capitale della ciglia che è poi la pigrizia spirituale ed è causato anche da un altro vizio spirituale dalla lussuria. L'altro vizio è la presunzione che ha due aspetti. Uno considera la beatitudine eterna raggiungibile con le proprie forze senza l'aiuto della grazia. L'altro aspetto è quello che spera di salvarsi senza il pentimento dei peccati e di ottenere la gloria senza alcun merito. Questa presunzione nasce dal vizio capitale della superbia e anche dalla vanagloria.